bari palermo oggi si è svegliato con la febbre ma l'altronde milioni e milioni di italiani saranno proprio addolciti sul letto in questo capodanno complimenti bari palermo complimenti capodanno complimenti alla febbre indentitori di febbre e di capodanno tra pochi giorni e non buongiorno ragazzi buongiorno è buono è buono oggi è 29 dicembre diciottesima giornata penultima alla fine di questa di questa andata l'internet sicuramente sarà campione d'inverno tra poco andiamo subito i pronostici ragazzi allora diciottesima giornata fiorentina torino ore 18 andando chiudiamo i bo con i botti perché l'altra volta ho fatto fiasco però due diciamo due domeniche fa ho vinto domenica e sabato quindi ho vinto sia la sedicesima che la nota quindicesima la sedicesima giornata ho vinto 17 disgrazio non vinto vediamo con la diciottesima giornata darò 1 2 3 4 5 6 7 9 partito oggi proprio con il botto dico tutte le partite dico tutto a fangulo tranne verona sanetana che non solo quella non mi piace gli altri bene o male si possono prendere si possono prendere va bene quindi andiamo su fruolentina torino oggi ore 18 e 30 allora manca il loro pupillo gomez gonzales insomma insomma la partita io dico che qui sono una partita di pareggio quindi più x però ci mettiamo fiorentina 1 x la partita può finire 1 a 1 perché manca quello la e fa tanto che fiorentina quindi fiorentina torino 1 x diciamo 18 e 30 napoli in monza india napoli ragazzi stecca con le grandi però con le piccole bene o male riesce a vincere napoli a settimo posto manca osimè osimè ha segnato non ha segnato anzi non c'è osimè non c'è osimè ragazzi però c'è caramella dai c'è il ciolito in monza fuori casa niente non già in casa è forte ma ora non c'è pure la fiorentina quindi un monza bad in napoli vince però con un gol di scatto quindi con napoli 2 monza 1 gol di caramella e ciolo 1 andiamo avanti poi anche perché su monza fa essi risultato a napoli a parte la contestazione mazzare orario a parte tutto ma che si porterebbe praticamente a meno 3 dai parto 9 quindi non deve succedere questa cosa qui ore 20 e 45 a genoa la squadra più vecchia d'italia contro l'internazionale interdebitata del mondo 807 mila di euro ma figura che non ti fanno vincere la partita ma manca ancora la taro forse penso che non gioca la taro questa partita voglio vedere una volta culecce voglio vedere senza la taro oggi voglio vedere oppure in dubbio non lo so veramente comunque dai vincete ma di un po' di scarto anche tu 2 1 2 quindi genoa 1 inter 2 turam dico turam 2 vai 20 e 45 lazio frosinone questa è una partita che ne fotte insomma frosinone scassa cazza ragazzi stai incontentata fin dal napole che avevamo sapendo giusto e giusto insomma sente dove vince la lazio però mettiamo 1x un bareggio non sa mai capito quindi dico 2 a 1 frosinone ma 1x nella bolletta pedro 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 andiamo a 30 dicembre meno 1 a capodanno 12 e 30 le partite 12 e 30 non li gioco mai però ho visto quella quota bellissima quasi a 1 45 cento l'atalanta bisogna vincere l'adella troppo perso quindi dico l'atalanta lecce penso con bologna devi vincere in casa l'atalanta lecce dico 2 a 0 1 murian vai cagliari e emboli 15 questa è una partita salvezza questa è una partita strana invece vedi questa è una partita ricca di gol secondo me quindi metteremo gol va bene il risultato non lo so perché l'emboli potesse anche pareggiare se non fare se non se non fare la pastetta a cagliari non lo so quindi dico gol gol udinese bologna ogni 15 udinese non c'è niente occhio udinese come l'emboli secondo me va inserire più l'udinese quest'anno quindi bologna è mirata per la champion gioca bene la squadra di motta cusegna zing 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 quindi dico udinese 1 bologna 3 però nella bolletta voglio mettere x2 mi riparo con questo x va bene ci ripariamo da freddo e davanti in gola ore 18 30 o 18 18 18 18 18 milan sassuolo aaaah ecco questa bella è milan sassuolo ragazzi sentite il sassuolo è una bestia nera per tutti per indri juve milan stiamo con milan soprattutto guarda ho visto le statistiche che mi ricordavo che sassuolo ha battuto tante volte in milan nelle ultime tre anni nelle ultime tre anni in casa in milan ha perso con sassuolo non ci posso credere ma come milan che mi gioco campionato le sette champions league e in danno il sassuolo per tre anni di fila ha fatto risultato l'anno scorso mi ricordo che c'era da bolletta subito 12 e 30 2 a 5 è finito 2 a 5 poi due anni fa 1 o 3 e poi tre anni fa 1 o 2 consiglio o zazza vuole ricordate quindi sai sassuolo fa schifo con tutti però appena incontro ripeto appena incontro a ind e ind e juventus che ha battuto tutti e due l'inter c'era sassuolo batti a milano l'inter poi batti in casa da juventus occhio milan vecchio l'in o il sassuolo potrebbe fare risultato a milano vedo che vi dico quindi io dico che sassuolo potrebbe vincere ti dico mica uno sassuolo 2 attenzione che dico quindi questa partita però giocheremo gol gol una bella quota 1 66 la prendiamo subito se avessi avuto mille euro libere era facile vincevo 660 euro gratis proprio gratis gollo facile quella bellissima con la partita gol quindi 18 verona sanitana non mi piace capo succede tutto onestamente che è l'ultima può fare anche a sorpresa può vincere in casa del verona attenzione juventus roma juventus roma a noi due lucazzo finalmente ritorno a parlare di lucazzo juventus roma lucazzo cosa vorresti fare tu segnati ripeto hai segnato con napoli perché erano in nove ma anche tu segnati con napoli in nove segnato all'ultimo minuto guarda casa e non deve che fa così ecco sì mattina ora bremer ti porterà a passeggio non toccherai palla e vediamo quindi dico la juventus con la roma juventus roma dico è questo buona partita di cortomuso questa secondo me o vinciamo 1 a 0 o vinciamo 2 a 1 in effetti qua ancora forse ritornerà di bala forse ci credo che secondo me lei verso vince guarda la verità 1 a 0 cortomuso come sempre gol di vlavic butta la miccia tu che sei andato la all'ospedale bambini da san margherita di torino che hai dato il dom lì sei stato un grande quindi mi fa piacere che la fede i bambini sono nostra forza bravo vlaucci segna segna con la roma fammi 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 esplodere fammi dire juventus 1 cioè fare il posto video juventus 1 roma 0 vlaucci segna top play e lucazzo non segna fammelo dire fammi dire fammi dire questa cosa vlaucci va bene stop stop va bene allora ricapitolando 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 mi piace la cosa che mi hai detto cosa che mi diceva gol a 1 ma ne faremo 0 1 allora ricapitolando fiorentina torino 1x napoli monza 1 genoa inter 2 lazio fresinone 1x adanda lecce 1 cagliari emboli gol udinese bologna x2 mina sassuolo gol e juventus roma nella bolletta ho messo 1x 1x attenzio perché mi metto pareggio non lo sa mai carlo lucazzo magari un calcio di rigore perché cosa vuol dire lucazzo di rigore oh in tanti anni lucazzo è incontrato la juventus che lì vabbè non ci ha fatto di toccare la palla delict non ci ha fatto di toccare la palla bremen non ci ha fatto di toccare la palla l'unica soddisfazione che ha avuto lucazzo è che giustamente ha segnato la roba in coppa italia la un calcio bremen che la in effetti ha sbagliato c'è una piccata mano di segnalare 95esimo c'è stato un bordello quadrato ma solo calcio di rigore può segnare quindi ripeto e anche se segnasse una volta ti direi sempre guardo una volta dopo mille anni che è giusto la sua carriera vedi che con l'evento si è incontrato una decina di volte solo calcio di rigore ha segnato solo con calcio di rigore ha segnato capito segnavo ora in coppa italia e quando ci fu quel famoso 3 a 2 il ricordo di guardato non c'era che segnato calcio di rigore che fici mai lucazzo calcio di rigore comunque allora ci mancherà smoling a noi a noi oltre i fagioli poco boh il decilio aprire un gunda che in questa partita faceva tanto che in attenzione e alle che sanno lo stiamo vedendo meglio così e cambiasso è una pedina diciamo molto fondamentale sai cambiasse uno dei cenochamisti uno dei più forti che c'è in questa juventus diciamo mediocre va bene quindi mi raccomando vlausi segna con la roma ragazzi vi saluto che vado a letto che sta morendo quindi stasera che c'è posto che partita vediamo va bene si genoa inda alle 8 farò il posto partita genoa inda va bene copia in gola e vinci chiudiamo con il botto ragazzi stasera chiudiamo con il botto dobbiamo concludere questo 2023 con una bellissima vincita quota 22 volte la posta 22 volte la posta che ti dico quindi con 10 euro sai che devi fare ciao ciao